Siamo a tutti e bentrovati in questo nuovo video in cui vi mostrerò come prendere gli avanzi in Pokémon Horus Tutto quello che dobbiamo fare è aver completato l'episodio Delta per avere il biglietto in modo da poter prendere il traghetto e selezionare il porto inverso a quello in cui siete Una volta saliti a bordo basterà semplicemente andare nel piano inferiore della nave ed prendere l'oggetto che è esattamente nell'angolo in alto a sinistra Che come vedete conterrà gli avanzi Spero che questo mini video vi sia stato utile e noi ci vediamo ad un prossimo Se non l'avete ancora fatto vi consiglio le iscrizioni al mio canale per nuovi video riguardanti Horus e non solo Ciao a tutti!